ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo della leggenda di lucida manzi la bella degli specchi e il suo patto col diavolo la bellezza di una donna è un'arma potente in grado di far muovere guerre e generare eroi come i leggendari protagonisti delle vicende omeriche la bellezza di una donna diventa spesso motivo di pettegolezzo e invidia dando vita a leggende meno epiche di quelle raccontate nell'iliade è questo il caso di lucida manzi una nobile donna lucchese vissuta nel diciassettesimo secolo la sua storia si intreccia con la leggenda e il mito del quale è difficile comprendere dove inizi l'una e finisca l'altro a livello storiografico molti identificano le vicende della leggenda con una certa lucida san miniati nata nel 1606 e morta a poco più che quarantenne di peste l'attribuzione del personaggio leggendario a quello storico è però tutt'altro che certa lucida san miniati nacque a lucca nel 1606 figlia di una nobile famiglia locale sposò a circa 20 anni tale vincenzo diversi che morì pochi anni dopo ucciso da un suo concorrente per una lite di confini lucida si trovò quindi giovane vedova e scelse di sposare oppure le fu imposto un signore ricco e facoltoso gaspare di nicolao mansi già quarantenne innamorata della propria figura fece ricoprire una stanza di villa mansi a segromigno di specchi dove potersi rimirare all'infinito data la differenza d'età con il marito la donna si circondò di numerosi amanti godendo della propria ricca vita fra feste e banchetti lussuosi lucida morì nel 1649 poco più che quarantenne spazzata via come spesso accadeva a quei tempi da un'epidemia di peste in molti hanno parlato di una damnazio memorie della donna che sarebbe all'origine della difficoltà di identificazione con il personaggio del racconto popolare ma una lucida nipotina della donna nata nello stesso anno della morte della san miniati sconfesserebbe l'ipotesi del voler dimenticare il nome della nonna dopo aver visto i pochi dati storici è il momento di capire quale leggenda descriva la figura della bella degli specchi secondo il racconto popolare lucida era avvenente e desiderata di un narcisismo sconfinato a vent'anni andò in sposa a vincenzo diversi che però uccise per potersi dedicare liberamente alla sua attività prediletta il libero esercizio dell'amore in seconde nozze risposò gaspare di nicolao manzi un nobile lucchese con una importante famiglia di commercianti il quale le lasciò totale libertà di costumi per lucida furono anni di lusso e piacere sfrenati ogni notte riceveva un amante diverso fra le sue lenzuola e come una amantide religiosa a ogni accoppiamento uccideva il malcapitato facendolo finire in una botola piena di lame acuminate un giorno però riflessa negli specchi di cui aveva fatto tappezzare tutta villa manzi vide una ruga sul proprio volto primo sintomo della decadenza della sua eterea bellezza la donna si disperò piangendo straziata sul proprio letto le apparve quindi un bellissimo giovane era il diavolo giunto dal regno degli inferi per farle una proposta la donna avrebbe mantenuto la sua bellezza intonsa per i seguenti trent'anni godendo appieno di una vita di lusso e piacere sessuale concedendo però al maligno la propria anima lucida accettò senza pensarci i decenni seguenti trascorsero fra i piaceri e i vizi mentre gli altri invecchiavano lucida rimaneva di una bellezza immutabile immune al trascorrere del tempo e degli eventi passati i trent'anni però il diavolo tornò a esigere il proprio compenso lucida tentò un ultimo disperato tentativo di salvezza salì sulla torre delle ore la più alta della città tentando di fermare l'orologio e quindi bloccare il trascorrere del tempo lucida si arrampicò come una disperata per le scale della torre arrivando a pochi passi dall'orologio e dalla campana che avrebbero sancito l'orario della sua fine terrena ma non fece in tempo l'orologio riuscì a compiere il suo ciclo e la campana suonò 12 rintocchi il diavolo trasmutato in un mostro la portò via sopra la sua carrozza infuocata sorvolando le antiche mura cittadine e gettandosi a capofitto nel lago dell'orto botanico della città mitico ingresso al mondo degli inferi la storia di lucida mansi sembrerebbe quasi una fiaba pedagogica per giovani fanciulle il mito sintetizza in sé diverse tematiche fra le quali l'inevitabilità del trascorrere del tempo il pericolo della bramosia di bellezza e le insidie del matrimonio è anche un modo per rendere epici alcuni luoghi della città di lucca come la torre delle ore le mura e l'orto botanico oltre alle ville della storica famiglia mansi proprio nel laghetto dell'orto botanico che ai tempi di lucida non esisteva ma che era uno specchio d'acqua dove si gettavano i cadaveri degli appestati sarebbe ancora visibile lo splendido volto di lucida che si svela a chiunque immerga il viso nell'acqua durante il plenilunio è possibile scorgere il diavolo e la sua carrozza che volano sulle mura della città sentendo le grida della donna dannata che soffre per la sua scelta scellerata il fantasma di lucida si aggira inoltre per due residenze private oltre alla già citata villa mansi di segromigno la donna tormenterebbe gli occupanti di una villa di monsagrati località nella quale si intratteneva e poi uccideva i propri giovani amanti ma naturalmente questa è solo una leggenda grazie a tutti